Ciao ragazze, oggi vi faccio il video sulla bombatura io ho rimosso il gel, come vedete sarebbe quasi un refill in questo caso però ho tolto il più possibile il modo da potervi fare appunto il video sulla bombatura vi faccio vedere la bombatura su una square e anche come vado a limarla poi vi farò vedere anche in caso di una mandorla allora, appunto essendo un refill vado a mettere i preparatori oggi utilizzo i prodotti di Silk Air quindi Nail Prep e Primer sono quelli di Silk Air li lascio asciugare all'aria e poi vado a passare la base su quest'unghia io ho già un allungamento quindi appunto vado a fare come se fosse un'unghia naturale poi vi farò il video anche sull'allungamento io ho già fatto la preparazione, quindi ho già rimosso le cuticole e quindi non per quello sto già mettendo i preparatori nel caso vogliate un video anche proprio sulla preparazione me lo scrivete io al più presto spero di poterlo fare poi ho ripassato la base e metto in lampada una volta catalizzato senza andare a sgrassare passo alla bombatura in questo caso utilizzo i led di Silk Air ma potete utilizzare un qualsiasi costruttore quello con cui vi trovate meglio e la punta io uso questa che è piatta qua questo è di Imagine Nails numero 4 poi ne ho un altro di Passione Unghie sempre numero 4 ma le settore un po' più lunghe allora, inizio prendendo una pallina di gel la prendo sul lato del barattolo in modo tale da non creare bolle se non siete sicure sulla quantità vi consiglio sempre di fare una pallina piccola e poi andare a aggiungere come vedete questo gel è molto denso io mi trovo molto bene se siete le prime armi vi consiglio sempre un gel autolivellante e poi vado a mettere la pallina sul punto di stress il punto di stress praticamente è a due terzi dell'unghia quindi immaginate di dividere l'unghia in tre parti e di metterla sui due terzi quindi in questo caso è praticamente dove inizia il bordo libero più o meno più o meno metto la mia pallina di gel eccola qua adesso con la punta col lato io spero si veda perché lo sto facendo su di me e non riesco a vedere sia la telecamera che quello che faccio allora, con la punta vado a stendere il gel allora vado verso il giro cuticole cerco di andare il più vicino possibile ma senza toccarle vedete io sfioro il gel e lo vado a mettere tutto intorno sui laterali e in punta forse ne ho messo troppo perché non lo sto trovando ovunque se ne mettete troppo al massimo lo andate a limare dopo se riuscite a toglierlo un pochino se ne vedete troppo basta toglierlo un pochino allora io non pinzo la bombatura quasi mai perché andando a pinzare già l'allungamento create già una buona curva C poi se preferite cioè io so che molte lo fanno e cercate appunto di dargli la forma sempre utilizzando la parte della punta del pennello poi lo mettete così e andate a picchiettare un pochino non so se si vede no, non si vede in modo che il gel va a mettersi un po' in posizione quindi i laterali si toglie un po' il gel in eccesso e va appunto sul punto di stress se ve lo faccio vedere e metto un attimo in lampada se volete pinzare i tempi di pinzatura variano da da costruttore a costruttore quindi alcuni hanno già sulla scheda tecnica c'è scritto il tempo di pinzatura su altri dovete andare a vedere voi per vedere se il gel è pinzabile io di solito faccio così se non si appiccica se non viene fuori i filetti vado a pinzarlo invece facendo così con con appunto la pinza vengono fuori i filamenti vuol dire che non è ancora da pinzare ok e rimetto in lampada una volta catalizzato andiamo a sgrassare con un pad e schiaccio ancora un po' i laterali ok se non abbiamo un grande allungamento quindi e vi faccio vedere la struttura com'è adesso vedete la bombatura deve essere bassa vicino al giro cuticole fare appunto la curva nel punto di stress e poi tornare bassa in punta ora comunque con la lima andiamo a sistemarla nel caso di una square i lati sono paralleli infatti adesso le andiamo a sistemare io utilizzo queste lime a mezzaluna infatti qua è usata la sto finendo di usare di solito due o tre ricostruzioni vi durano dipende quali prendete queste le ho prese su ebay se non sbaglio allora c'è grana 180 e grana 100 io per la bombatura di solito utilizzo grana 100 e poi vado a rifinirla con la 180 iniziamo prima i laterali scusate che su di me sono imbranatissime che controlliamo di non aver messo prodotto in eccesso se avete qualche consiglio su come posizionare meglio la videocamera ditemelo che è molto utile che non so se così vi capite bene una volta fatti i laterali passiamo al giro cuticole con la parte appunto tonda se siete le prime armi la parte del giro cuticole fatela pure con la grana 180 in modo da non andare a massacrargli appunto le pellicine e le cuticole perché qui è facile andare scivolare sul dito cioè lo faccio anche io spesso se sentite russare al mio cane che come al solito è qua che russa una volta fatto il giro cuticole vado a sistemarmi poi i laterali perché ovviamente avendo limato non abbiamo più la curva morbida quindi dall'esterno verso l'interno dall'esterno verso l'interno perché? perché se fate dall'interno verso l'esterno vi abbassate troppo la bombatura invece facendo dall'esterno verso l'interno per quanto possibile ovviamente non andate a intaccare la bombatura e infine tenendo la lima così il termine tecnico è così andate ad abbassare leggermente la punta se l'avete fatta troppo spessa poi ovviamente se avete fatto anche l'allungamento andate a controllare sotto che siano paralleli che sono magari all'inizio e davanti la punta se è a posto a questo punto io opacizzo tutta l'unghia e vado a togliere eventuali scanalature e imperfezioni con la 180 bene che la curva C sia a posto che la bombatura non sia troppo alta vedete un po' alta qua e la vado ad abbassare la bombatura alla fine ho fatto di pratica tanta pratica anche al corso ci hanno detto fare attenzione controllare bene se alla fine dovete far pratica pratica e pratica su voi stesse sulle tip poi quando iniziate a prendere in mano magari se avete qualche cavia da laboratorio e vado a spolverare per controllare bene a questo punto passo il buffer per togliere tutte le righette che può lasciare la lima i peggiori per chi ha le prime armi sono il bianco da far monocolore e i perlati perché con la bombatura cioè i perlati se non fate una buona bombatura una buona ricostruzione e lasciate qualche montagnola diciamo si vede subito quindi se ha le prime armi vi sconsiglio colori così difficili diciamo poi magari sono anche un aiuto per vedere appunto se ci sono imperfezioni perlati metallizzati e anche il bianco perché il bianco fa vedere tutto ok una volta fatto andiamo a spolverare per bene e controlliamo sempre di aver fatto tutto bene non è che sia proprio una square questa e ora ovviamente per complicarci la vita vado a scegliere un colore perlato in questo caso ho scelto l'M05 fior di loto di passione unghie ricordatevi di mescolare sempre i colori dal basso verso l'alto in modo appunto che i pigmenti depositati sul fondo riaffiorino e il pennello vado ad utilizzare uno a lingua di gatto utilizzo questo piccolo piccolo che è Gel Nail Brush l'ho preso dal sito sta bellesa un tempo fa ho fatto un ordine e volevo provarlo piccolino però per le unghiette piccole va bene come vedete non parto subito dal aspettate non parto subito attaccata al giro cuticole ma sto un po' distante in modo appunto da togliere l'eccesso di prodotto e poi mi avvicino pian piano ci vuole un po' di attenzione poi aggiungete un po' di colore dove manca come ho detto io scarico sempre il pennello al centro più o meno al centro dell'unghia e poi vado ad aggiungerlo dove manca se in questo caso vedete ondine vedete dei riflessi strani perché appunto c'è qualche avvallamento potete semplicemente togliere il color gel col pad e andare a limare ancora un po' la struttura in questo caso a me sembra abbastanza una forma umana e vado a mettere in lampada a catalizzare dopo di che vado a dare la seconda passata un po' più abbondante una massa scusate ecco qua se sentite un altro rumore tipo shuttle in realtà è la lavatrice che sta facendo la centrifuga un'altra cosa un'altra cosa che ho dei perlati è che se non fate le pennellate appunto dal basso verso l'alto dritte vi fa appunto le righette di solito in questa fase io prima lo stendo e poi col pennello vado a sfiorare la superficie vado a togliere le righette e il prodotto in eccesso come vedete di qua ho sbavato un pochino vi faccio vedere questo magnifico pennello in silicone di passione unghia ho visto che l'ho fatto anche un set con varie punte che penso che prenderò perché appunto adesso andiamo a togliere l'eccesso sul dito e poi semplicemente l'ho pulito su un pad o su uno scottex molto utile per per chi ha le prime armi per chi è pasticciona o comunque per tutti perché può sempre capitare di sbavare ed ecco qua e adesso metto il lampo da catalizzare ok infine possiamo sigillare allora io in questo caso utilizzo il colorito base top vanish di silker quando utilizzo un gel senza dispersione riferisco a passare sempre un costruttore prima del appunto del finish perché ho notato che se metto il finish direttamente va a creparsi più facilmente invece con questo non ho mai avuto problemi come sempre sto attenta a non andare a toccare le cuticole a sigillare bene i laterali non ne metto né troppo ma né troppo poco se ne metto troppo poi quando vado a sgrassarlo diventa opaco se ne metto troppo poco mi si creppa facilmente qua tutti i sigillanti vi dico bisogna provarli e trovare la tecnica giusta una volta sigillato metto in lampada una volta uscito dalla lampada lo lascio raffreddare qualche minuto dopodiché prendo il mio olio per cuticole in questo caso sto usando quelli piccolini di passione unghie questa è la vaniglia e lo sto finendo già in un altro video mi sembra di aver detto che mi trovo bene con questi però preferirei quelli col contagocce e adesso li finisco li finirò e poi comprerò quelli appunto senza dispersione col contagocce scusate passo bene sul giro cuticole e anche sotto qua poi abbondo un pochino la zona in modo appunto da poter andare a sgrassarlo sempre con un pad asciutto deve scricchiolare non so se si sente si scricchiola vuol dire che vuol dire che si sta lucidando finito io come sempre ho la mia lima che sto facendo fuori anche questa questa è la mia lima e vado sui laterali perché ovviamente io con il lucido vado sempre a sbavare vado a togliere l'eccesso i miei laterali poi potete anche passarlo così sul giro cuticole e vedere se l'avete attaccato anche lì dopo di che passo di nuovo il mio pad e questa è la nostra bombatura ora vi faccio vedere come vado a limare la bombatura su una mandorla e su un ovale la bombatura viene fatta con lo stesso procedimento di una square e sostanzialmente anche la limatura viene fatta allo stesso modo quindi la bombatura viene fatta a due terzi dell'unghia viene messa alla pallina e poi spostata utilizzando la punta del pennello ovviamente invece di andare sui laterali in modo parallelo andate a seguire appunto la forma dell'unghia poi per limare come prima andate prima a limare i laterali poi il giro cuticole e poi andate a rendere la forma più armoniosa abbassate la punta se viene troppo spessa e poi con il buffer andate a togliere tutte le righe che lascia la lima e poi andate a controllare appunto com'è la bombatura e adesso faccio la stessa cosa sull'ovale queste sono forme corte quindi diciamo che è più semplice se siete alle prime armi come dico sempre non andate a fare allungamenti estremi o unghie troppo lunghe perché appunto imparando a fare la bombatura su forme corte poi man mano imparate anche su quelle più lunghe perché anche se sbattete un'unghia corta vi fate malino se sbattete una più lunga fate ancora più male se appunto la struttura è errata e niente vedete anche qua vado a controllare anche la forma scusate se esco dall'inquadratura ogni tanto ma guardando il lavoro e non la videocamera non vedo che vado fuori in quadratura e niente come prima dopo aver fatto questo e aver controllato bene qua vedete il pollice l'ho fatto un po' troppo spesso e vado ad abbassare un po' la bombatura in questo caso sto usando la grana 180 perché se uso l'accento vado ad abbassare troppo e poi di nuovo con il buffer ecco qua vi faccio vedere so che è un po' noioso e questo video è diventato lungo ma ci tenevo a farvi vedere tutto nel modo più esauriente possibile comunque se avete ancora dubbi domande o volete altri approfondimenti scrivetemelo sempre qua sotto io cerco appunto di fare video di aggiornamento per togliervi tutti i dubbi o anche a rispondervi semplicemente alle vostre domande e come prima dopo aver fatto la struttura vado semplicemente a passare il colore prima una strata sottile poi una strata un po' più abbondante e infine vado a mettere il finish ed ecco qua io spero veramente che questo video vi sia stato utile anche perché mi è stato richiesto da una ragazza in particolare un paio di volte e spero che appunto vi sia piaciuto vi abbia tolto un po' di dubbi e come sempre domande consigli qualsiasi cosa io sono qua scrivetemi pure spero di rispondervi al più presto o appunto con un messaggio o con un video e niente vi saluto e vi lascio alla fine del video in cui vi faccio vedere un po' tutte le unghie come sono diventate eccole qua e un bacio a tutte ciao ciao Grazie.